Buon pranzo a Capoccio Rossonare, buon pranzo a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video di merda oggi dopo la sconfitta vergognosa che il Milan ieri ha assorbito contro il Torino, una grandissima figura di merda non mi ricordavo una figura di merda così grande da un bel po' di anni, sembrava essere ritornati indietro di almeno 4 anni ragazzi questo dovrebbe essere un video pagelle, prima di iniziare vorrei dire che non so se l'avete letto nei vari organi di informazione intorno al mondo Milan ma la squadra è andata in ritiro, un ritiro fortemente voluto da Pioli non so se in mezzo alla decisione ci sia anche un volere da parte di Maldini perché ragazzi non dobbiamo nasconderci dietro un dito nel senso che la partita di ieri, la figura di merda di ieri annunciata da me nei canali social così come la paura fottuta contro la Roma, la paura contro la Salernità la sono date sì dal cambio di modulo perché in un momento in cui tutto va bene non ha senso sperimentare in un momento topico della stagione le sperimentazioni vanno lasciate in alto in momenti della stagione, magari all'inizio se proprio non è potuto sperimentare durante l'estate più che altro manca proprio un problema di atteggiamento perché poi alla fine la partita l'abbiamo persa con i titolari contro un Torino che sui titolari li aveva messi fuori per di più decimato dall'espulsione di Gigi niente ragazzi, prima di iniziare questo video mi raccomando la formuletta è sempre la stessa anche al video, commentate, condividetelo con i miei amici ma soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi, pagelle molto flash da Rusano, voto 6, ottima la parata su Lukic a inizio partita per il resto inoperoso tranne al gol dove praticamente non ha potuto fare niente dato che si è trattato di un passaggio fronte e porta con lui ormai completamente battuto Kalulu, voto 6, amministra la difesa, non fa grossi errori ragazzi i voti che sto dando ovviamente è abbassatene di due punti per l'atteggiamento tutti ok? Facciamo questo patto Gabby anche lui voto 6, schierato centrale di una difesa a tre, non deve faticare molto riesce in qualche modo a contenere Sanabria senza grossi problemi Tomori anche lui voto 6 è quello che magari dei tre ci prova un po' di più anche con qualche scorribbando offensiva cerca di incitare i suoi quando ormai la frittata era fatta voto 6 per lui Salmager voto 6 sono praticamente quasi tutti i 6 Salmager voto 6 perché è uno dei più energici uno di quelli che si presenta con più voglia dalle parti della difesa del Torino si vede che sta vivendo un buon momento di forma speriamo che continui da qui alla fila della stagione Franks voto 6, parte non benissimo ma cresce alla distanza con interventi difensivi e non importanti Tonale anche lui voto 6 senza benassere è lui che deve orchestrare la manovra offensiva deve essere in qualche modo il regista magari un ruolo che non gli si addice proprio appena perché lui è più un centrocampista box to box Dest voto 5 e mezzo ragazzi è vero è l'unico che ci prova tra i terzini schierati all'inizio ma è anche in difesa soffre tanto non è quasi mai preciso nelle diagonali non mi è piaciuto granché Pobega voto 5 dopo il gol contro la Roma ci si aspettava una prestazione con più sostanza però il ragazzo è veramente molto impreciso in una partita per tutti Brandiaz voto 6, è l'unico, anzi darei 6 più a Brandiaz è l'unico che sembra avere sempre la solita gara la solita voglia di recuperare la palla la solita voglia di metterci sempre del suo in ogni occasione come sempre l'imperatore a Brandiaz è spesso troppo disordinato è spesso troppo poco lucido quando si tratta di fare la scelta l'ultimo passaggio, il passaggio chiave la giocata decisiva lì si perde un po', migliorasse questo aspetto veramente sarebbe il nuovo Papu Gomez ragazzi CDK voto 2-5 e più perché iniziato molto bene purtroppo come sempre dico io in questo momento CDK è in qualche modo avvolto dalla nuvola di Fantozzi non riesce mai ad essere incisivo quando ci riesce prende sistematicamente il pallone attraversa la parata ha due buone occasioni, un'ottima torsione da 9-0 che finisce sull'incrocio dei pali purtroppo, la seconda occasione dove viene lasciato troppo spazio al suo sinistro che però parte sì forte ma veramente poco preciso sbatte addosso a Milinkovic i subentrati ragazzi al 76esimo Teo voto 5-5, al 67esimo Leao voto 5 sono entrati tutti mali Benasser voto 5-5, Calabria non valutato Giroud voto 4 praticamente sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare è la cosa che mi fa più incazzare che non solo entra svogliato, entra stanco perché lo sappiamo che è stanco, si è allenato pochissimo l'ha detto anche Mr. Pioli nel post partita ma cerca sempre colpi di tacco che vanno a finire di merda Cicca sempre il colpo di tacco ne avrà tentati 3-4-5 tutti sbagliati il 67esimo Messias è entrato per Brandyaz ragazzi Messias voto 4-5 inizia benissimo, inizia con un aggancio stellare stava riuscendo a fare un gol da Cineteca con un sinistro aggancio e destro tiro che finisce di poco alto causa l'espulsione di Gigi con la sua velocità ma da lì parte come si dice l'offuscamento di Messias Messias perde la palla che causa nei supplementari il vantaggio del Torino cortocircuito incredibile da lì sbaglia ogni scelta cross sempre a rientrare perdendo tempi di gioco proprio lento di test è come se dopo aver fatto l'errore decisivo della partita va totalmente in burnout e qui ragazzi arriviamo al nostro allenatore Pioli ragazzi voto 3 se ho dato 5 contro la Salarenitano ho dato 4 contro la Roma non posso che dare 3 oggi 3 oggi perché di base c'è un problema allora io non voglio e lo ripeto dopo il video di ieri che Pioli dopo il premio di migliore allenatore dell'anno scorso pensi di essere diventato Guardiola perché non funziona così non puoi rivoluzionare una macchina che gira perfettamente perché non hai motivo di rivoluzionarla aveva senso rivoluzionarla quando sei arrivato nel post Giampalo dove tutto andava di merda non ha senso rivoluzionarla ora ragazzi una formazione iniziale che solo a vederla mi è venuto il coronato di vomito non riuscivo proprio a trattenermi dal vomitare perché tu hai sottovalutato nella maniera peggiore una signora squadra contro il Torino e quindi tra parentesi meriti di essere buttato fuori la cosa ancora più grave è che quando dal settantesimo il Torino rimane in dieci ed entrano i titolari non cambia nulla tutti i titolari entrano senza testa tutti i titolari entrano svogliati tutti i titolari entrano confusi Leao che butta ogni pallone in curva con i suoi tiri Teo che entra sconnesso Ben Asser finora regista incredibile entra confuso non svogliato ma è come se una squadra non si muovesse più all'unisolo Giroud non ne parliamo Messias peggio che andare di notte e capite bene che c'è anche un problema di atteggiamento quindi ragazzi niente se vogliamo guardare il lato positivo onestamente non c'è perché la Coppa Italia era una la classica coppa che ti può salvare la stagione un po' come è stato con l'Inter l'anno scorso ci rimane la Supercoppa Italiana sì sarà la coppa dei meno peggio però se vogliamo proprio guardare il lato positivo speriamo che questa sconfitta sia lo schiaffo forte in faccia per risvegliare questa squadra perché manca l'atteggiamento non siamo una squadra che può peccare di superficialità non siamo in Real Madrid non siamo in Manchester City non abbiamo tutti quei campioni che magari anche un giorno in cui giocano svogliati nei primi 15 negli ultimi 15 qualcosa la combinano sempre noi no noi dobbiamo sempre giocare con il sangue agli occhi se non giochiamo con il sangue agli occhi quello di ieri sera sarà un risultato che vedremo tante volte da qui alla fine della stagione vi ringrazio per essere stati qui con me ragazzi miei mi raccomando lecca il video commentate e condividetelo con gli amici ma soprattutto iscrivetevi al canale speriamo di non vedere altre figure di merda come questa bella raga grazie a tutti